Che cosa rappresenta Mido per la sua azienda? È molto onore partecipare a questo Mido perché pensa che sia un fiera molto importante internazionalmente. Che cosa si aspetta partecipando a Mido 2015? Era una buona occasione per presentare i suoi prodotti agli europei. Che cosa rende i vostri prodotti unici nel loro genere? Allora, le sue forme sono molto classici, però rendendo più moderni e mettendo il suo disegno personale, è una buona particolare. È una buona partecipazione.